Oggi 26 maggio in 300 piazze italiane, la rivoluzione con il cibo. A Messina ha anche un significato più importante questa iniziativa. Sì, abbiamo pensato come Slow Food di unire due territori che sono stati accomunati nel tempo dai disastri alluvionali, appunto Giampilieri e Saponara, unendo due territori attraverso l'agricoltura. Già da tempo abbiamo fatto una comunità del cibo a Giampilieri e qui abbiamo fatto un orto sociale. Le piantine di quest'orto sono il simbolo per poi essere piantate in un orto sociale nuovo che ci sarà a Saponara, insieme in una traversata organizzata insieme alla provincia regionale di Messina con dei fuoristrada, insieme a disabili, perché i disabili si debbono appropriare di spazi aperti di cui abitualmente non usufruiscono, insieme alla forestale, insieme al comune naturalmente di Saponara, con una sinergia di azioni per poter far ripristinare alcune attenzioni su un territorio. Le collaborazioni sono tante, fra cui anche quella dell'Istituto Cuppari, perché c'è una selezione di piante particolari e insieme al Cuppari ci sarà questo ripristino di alcune piante antiche quasi disperse e che è quindi col recupero della biodiversità. Recuperare piante e agricoltura anche grazie all'azienda forestale è anche uno degli obiettivi che si pone la giornata dello Slow Food Day.